Operazione Lampo dei Carabinieri di Cosenza che nel giro di 20 giorni hanno individuato e debellato un giro di estorsione nei confronti di alcuni commercianti cinesi che operano a Cosenza. In manette è finito Francesco Olivetti di 28 anni che con la classica raccomandazione, paga se vuoi stare tranquillo, è finito in carcere con l'accusa di estorsione. Con grande sorpresa abbiamo svolto questa attività di indagine in pochissimo tempo, possiamo parlare di due settimane al massimo. Ci sono state due tentate estorsioni che fortunatamente grazie alla collaborazione dei commercianti sono state subito utili per attivare un filone di indagine che ha portato all'arresto del soggetto. Prima le minacce, poi l'intimidazione con la colla nelle serrature delle attività commerciali. Così gli uomini del luogotenente Saponangelo eseguendo la più classica delle indagini fatte attraverso il pattugliamento a piedi del territorio sono giunti a conclusione, chiudendo il cerchio attorno ad Olivetti che chiedeva 200 euro al mese per la protezione. Questa forma di intimidazione molto comune, se vuoi stare tranquillo, dammi x somma di denaro, molto diffusa tra le richieste degli estorsori, riesce ad essere psicologicamente devastante per i commercianti. Ciò che è utile è prendere tempo e rivolgersi subito alle forze di polizia affinché attraverso il contrasto e la presenza delle forze di polizia sul territorio il fenomeno possa essere mano a mano represso. Ma le indagini non finiscono qui, infatti Olivetti farebbe parte dei clan operanti sul territorio. Uno spunto investigativo che verrà seguito anche nei prossimi mesi affinché attraverso la presenza del soggetto si riesca anche a vedere quelli che sono i vari uomini di contorno a tutta quanta l'attività. Durante la conferenza stampa il comandante provinciale Colonnello Ferace non ha voluto togliere i meriti dell'operazione, rimanendo seduto tra i cronisti per dare spazio e lustro ai suoi uomini. Grazie a tutti.